Permesso? Prego, siediti. Grazie. Ciao, Bruno. Che faccia triste. Forse perché devi lasciare la tua ragazza per andare qualche giorno a Merida? No. Sono molto felice che mio zio mi mandi a fare questo viaggio, così potrò lavorare. Mi farà bene allontanarmi un po' da tutto quanto. Ah, è un bene che la pensi così, perché dovrai farlo spesso d'ora in avanti, vero tesoro? Esatto. Voglio che cominci a prendere le redini di quella che sarà la tua azienda. Ah, sì. E noi intanto penseremo a viaggiare e a essere felici. Sono contento, mio zio merita di essere felice. Eh, sì. Sai, proprio oggi stavamo guardando i voli per la Spagna. Già, potremmo andare in vacanza lì. Ah, sì. Sarebbe davvero romantico. Lo sai, tesoro, ho sempre desiderato andare in Spagna con il mio vero e unico amore. Sono così felice. Questo sogno finalmente si realizzerà. Ah, amore mio, la Spagna sarà come una seconda luna di miele. Sai, io credo che lì potremmo rilassarci e pensare al figlio che desideri tanto. No, 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 no.